Quali sono gli ingredienti di questo stile? Sicuramente delle stampe che si ispirano allo stile classico e degli accessori in ceramica. I nostri bikini ad esempio hanno delle applicazioni in prossimità ad esempio dei ferretti e dei piccoli accessori in ceramica che vanno a rafforzare il principio ispiratore del nostro stile. Quali sono i must have? Sicuramente le fasce per i capelli, quindi fasce per i capelli sicuramente molto colorate, full art e anche gli orecchini sono dei maxi orecchini molto grandi e quindi che possono anche richiamare tranquillamente un po' l'attenzione. Parliamo poi del tema numero due, sport illustrated. In questo caso abbiamo dei pattern, delle fantasie un po' diverse rispetto al tema precedente. In questo caso l'ispirazione è chiara, quella dell'architettura per interni americana, a Mark Roto e ad altri artisti americani. Quindi l'obiettivo è quello di riprendere i motivi che ritroviamo ad esempio nei muri, nella decorazione degli interni in stile americano anche nell'ambito della collezione male. Vediamo quindi questi color block, questi graffiti. Grazie. Grazie. Grazie.